Ma chi dice che il kebab è solo cibo spazzatura? Ti faccio vedere come lo preparano da Isshallah a Quartu. Allora, manzo e tacchino. Si taglia delle fettine sottili. Ora mariniamo la carne con le nostre spezie. Un po' di sale. Andiamo a meschiare le spezie. Ora andiamo a fare lo sfidello. Allora, mettiamo uno strattino di tacchino e uno di manzo. Ora andiamo a dare la forma. Tagliamo per modellarlo. 40 kg di carne. Chiudiamo e poi va in un uccello a frigo. Per 24 ore. Andiamo all'assaggio. Vado. Senti tutto il lavoro che c'è dietro. È fantastico.